Buongiorno e benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo di quella che è l'architettura di riferimento del web o, se preferite, è la lezione che potremmo sottotitolare tutto quello che avreste voluto sapere sul web e non avete mai osato chiedere. Come possiamo parlare del web? Innanzitutto è bene fare riferimento a quella che è l'evoluzione. Se noi pensiamo agli inizi del web, cioè quando ci trovavamo all'inizio degli anni 90 e il primo browser è stato creato, abbiamo un riferimento a pochi meccanismi, pochi protocolli, pochi standard che nel corso degli anni e soprattutto anche grazie al moltiplicarsi dei browser, inizialmente Mosaic che era il primo browser, open source, poi Netscape, Opera e Internet Explorer e molto molto dopo Safari, Firefox che in realtà è un discendente di Netscape, più recentemente ancora Chrome, il numero di standard e di innovazioni che si sono succedute e si sono soprattutto accumulate negli anni vedono una quantità di tecnologie che vengono implementate all'interno dei browser o comunque degli strumenti che possiamo utilizzare per accedere al web che è enorme. Ovviamente quello che faremo in questa breve panoramica è andare a capire quali sono i fondamenti, quindi sostanzialmente andare a capire quali sono gli elementi fondamentali, il protocollo HTTP e linguaggio HTML e poi alcune delle tecnologie fondamentali. Quando facciamo riferimento al web di solito facciamo riferimento a quella che è un'architettura, ovvero l'insieme di elementi che compongono il web e le relative relazioni e interazioni che possono avere, che di solito viene definita un'architettura a livelli. Un'architettura a livelli perché viene spesso descritta in questo modo. In cima, nel livello più alto, abbiamo quello che è il browser o più in generale un client, perché il browser è sicuramente lo strumento principale, ma oggi buona parte delle applicazioni che voi usate sul telefonino sostanzialmente sono dei client, quindi sono una versione modificata di un browser che accede al web. Il browser o il client più in generale utilizzano quella che è l'infrastruttura internet, ovvero tutte le connessioni che ci sono per poter collegare il vostro browser a quelli che sono i server web. Quindi il server web è la controparte del browser al quale ci si rivolge per ottenere dei contenuti, contenuti che possono essere di vario tipo. Passiamo dalle pagine in formato HTML a immagini, video come quello che state guardando adesso. Normalmente i server web che rispondono a uno standard ben definito si appoggiano per andare a fornire i loro contenuti a degli altri server che solitamente si chiamano application server. I server applicativi sono specifici per appunto le applicazioni che stiamo andando a sviluppare, mentre invece il server web è in buona parte standard. E questa è la vera forza dell'architettura del web perché l'interazione tra i browser e i server web è normata da una serie di protocolli e di linguaggi ben definiti e standardizzati per cui io posso tranquillamente sostituire un web browser con un altro e posso utilizzare una varietà di client o browser. L'application server a sua volta si appoggerà su dei server che forniscono i dati, database server ed eventualmente a servizi forniti da terze parti. Quindi è possibile che un'applicazione vada a richiedere servizi a ancora altre applicazioni avendo una ramificazione che può essere eventualmente molto complicata. Ma l'architettura base del web sostanzialmente identifica tre componenti fondamentali che abbiamo visto prima nell'architettura. Il client, i server, almeno uno e tutto quello che sta in mezzo, ovvero internet. Abbiamo detto che storicamente i client sono dei web browser ma le applicazioni mobili, le applicazioni desktop, molte applicazioni desktop o altri servizi, quindi se un server deve chiedere un servizio e un altro utilizzerà sostanzialmente l'infrastruttura internet e quindi si porrà nei confronti del server a cui chiede le informazioni come un client. Noi nella nostra panoramica andremo un po' più nel dettaglio su come interagiscono il client e il server e faremo dei cendi molto molto rapidi su come invece è strutturato internet perché sostanzialmente non è l'oggetto di questa panoramica. Quindi questi sono i tre elementi fondamentali che noi siamo in grado di andare a gestire. Come avviene la comunicazione? La comunicazione avviene tramite dei protocolli di comunicazione. Che cos'è un protocollo? È sostanzialmente una serie di regole che vengono utilizzate per trasferire delle informazioni tra due o più parti. Eventualmente potrebbe esserci una trasmissione a molti. In particolare un protocollo definisce quella che è la sintassi o meglio il formato con cui vengono trasferiti i dati, la semantica ovvero il significato di ogni informazione che viene trasmessa, ad esempio il fatto che io voglia segnalare che un dato è presente oppure no, ecco questo devo andarlo a normare all'interno del protocollo. Le procedure che vengono seguiti, quindi i passi che vengono fatti per poter avere il collegamento, la trasmissione dei dati, la chiusura del trasferimento, i meccanismi di sincronizzazione perché devono esserci delle tempistiche ben precise ed eventualmente anche dei metodi per andare a recuperare quelli che sono gli errori, quindi se c'è un errore di trasmissione io posso avere in alcuni protocolli dei meccanismi che mi permettono di andare a recuperare l'errore. Quali sono i protocolli che noi utilizziamo sulla rete internet? Beh, ce ne sono tantissimi. Il principale, quello che approfondiremo un po' meglio, è il protocollo HTTP con la sua variante HTTPS che è essenzialmente la variante criptografata, in cui sostanzialmente le informazioni vengono prima cifrate, poi trasmesse, poi decodificate e lette del server e poi avviene l'operazione inversa, che è il protocollo che viene utilizzato per fare il trasferimento dei contenuti. Quindi è un protocollo che serve per trasferire principalmente le informazioni testuali, ma viene utilizzato anche per informazioni binarie come le immagini e i video, e permette di trasferire per l'appunto l'informazione, un contenuto. Normalmente ogni contenuto è anche caratterizzato da un tipo di informazione, testo, immagine, documento e quant'altro. Il protocollo HTTP e la sua variante criptografata HTTPS si appoggiano su un protocollo di livello inferiore che si chiama TCP. Quindi l'HTTP è un protocollo di alto livello, il TCP è un protocollo di livello leggermente inferiore che sostanzialmente viene sfruttato perché garantisce quella che è la trasmissione affidabile di contenuti di lunghezza abbastanza varie. Quindi mi permette di non preoccuparmi all'interno del protocollo HTTP di come trasmettere le informazioni, ma semplicemente dico al protocollo sottostante TCP manda questa informazione, basta, dall'altra parte verrà ricevuta. TCP a sua volta si appoggia su un protocollo ancora di livello inferiore, che è il protocollo IP, che sta per Internet Protocol, che sostanzialmente è quello che garantisce il trasferimento di dati attraverso la rete. Mentre il TCP sostanzialmente si occupa di qual è l'estremo, quindi il server a cui mandare o il client a cui rispondere, il protocollo IP è invece conscio del fatto che per avere questa trasmissione sarà necessario attraversare una rete, quindi mandare messaggi a server o nodi, router o altri elementi che sono intermedi, in modo che questi a loro volta li ritrasmettono e alla fine raggiungano il destinatario. Tutta questa parte di routing, si chiama o in stradamento, è gestita dal protocollo IP ed è sostanzialmente invisibile e trasparente per il protocollo TCP e a maggior ragione anche per il protocollo che sta sopra che è l'HTTP. Il protocollo IP ovviamente deve avere la possibilità di trasmettere al prossimo elemento, quello più vicino nella rete delle informazioni e questo lo fa con dei protocolli più di basso livello che permettono la gestione della trasmissione diretta delle informazioni. E questi protocolli più di basso livello sono ad esempio il Wi-Fi, che fa parte di una grossa famiglia di protocolli per la trasmissione senza fili, IEEE 802.11 è la famiglia di protocolli con tante diverse varianti. Abbiamo poi Ethernet che è sostanzialmente la variante basata sui fili, quindi quando noi abbiamo collegato il nostro modem ADSL probabilmente abbiamo in ingresso un cavo che utilizza il protocollo Ethernet. Abbiamo Bluetooth, abbiamo USB, tutti questi sono una serie di protocolli che permettono la gestione della trasmissione diretta delle informazioni e normalmente questi protocolli si occupano di diversi aspetti. Le regole di alto livello, come accedere al mezzo di trasmissione, se immaginiamo l'Ethere, l'accesso richiede anche di andare a gestire i possibili conflitti con altri dispositivi che trasmettono. Se io ho due PC all'interno della stessa stanza che cercano di trasmettere utilizzando la stessa rete Wi-Fi e se lo fanno nello stesso momento ovviamente i due segnali si sovrapporranno. Quindi deve esserci un meccanismo per andare a risolvere questi conflitti. E ancora a livello più basso deve esserci una serie di regole che mi dicano come fisicamente andare a generare dei segnali elettrici o elettromagnetici per la trasmissione dei dati. Tutto questo è definito in questi vari protocolli. Nel caso del Wi-Fi avremo una comunicazione, avremo delle frequenze su cui trasmettere, avremo un modo di codifica delle informazioni. Nel caso Ethernet o USB avremo ad esempio i dettagli su come sono connessi i fili, come sono fatti i connettori e quant'altro. Ecco, a questo punto noi ci concentriamo sul protocollo di alto livello che è il protocollo HTTP e ci dimentichiamo tutti quelli che stanno sotto. Sappiamo che in qualche modo qualcuno li ha inventati, sono in funzione, ci garantiscono una buona affidabilità e quindi ci concentriamo su quello che è il protocollo di alto livello che è il protocollo HTTP. Il protocollo HTTP è quello che viene gestito dai server. Attenzione che quando usiamo la parola server molto spesso facciamo riferimento a due concetti leggermente diversi. C'è il server nell'accezione logica e c'è il server nell'accezione fisica. Il server nell'accezione logica è un programma, un processo che viene eseguito su una macchina e che sostanzialmente ha il compito di ricevere delle richieste e fornire delle risposte. nell'accezione fisica il server è invece un oggetto per appunto fisico, quindi un computer con un corrispettivo fisico, quindi avrà una CPU, avrà della memoria, avrà un alimentatore, avrà dei cavi, delle schede, dell'interconnessione al suo interno. Quindi server può in generale fare riferimento a questi due concetti. Noi molto spesso quando parliamo di server, almeno in questo corso, ci dimentichiamo dell'aspetto fisico, come ci siamo dimenticati dei protocolli più di basso livello, TCP, IP, Wi-Fi, eccetera, e tendenzialmente parliamo di quello che è un server logico. Se dovremmo fare riferimento al concetto fisico di server, parleremo di macchine, oppure di host, o di server fisici. Il server logico di cui parliamo in questa lezione è quello che si chiama il web server, ed è un server, ovvero un'applicazione, un programma se volete, che è in grado di gestire il protocollo HTTP. Cosa fa il protocollo HTTP? Sostanzialmente permette a un client, tipicamente un browser, di fare una richiesta per un certo contenuto. Il server web è in attesa di richieste, le riceve e recupera i contenuti in qualche modo. Nel caso più semplice va a leggere un file che sta sul disco e manda indietro, secondo le regole definite dal protocollo HTTP, i contenuti che sono stati richiesti. Nel caso più complesso il server può chiedere a un altro server, ad esempio l'application server, di dargli i contenuti che poi verranno mandati. In generale il protocollo HTTP è un protocollo molto elementare. Ogni volta che abbiamo bisogno di un pezzo di informazione, un contenuto, il nostro client deve fare una nuova richiesta. Ovviamente i server web devono gestire molte richieste contemporaneamente, quindi hanno delle meccanismi, un'organizzazione interna che permette di gestire più richieste contemporaneamente, quindi sono delle applicazioni multiprocesso o multitraded, che quindi sono in grado di rispondere a più client contemporaneamente. Molto spesso quando abbiamo a che fare con la struttura di un web server, in realtà dietro abbiamo anche una serie di informazioni aggiuntive o comunque di altri server aggiuntivi che sono ad esempio dei server di autenticazione, dei server per gestire le transazioni, dei server che gestiscono il database eccetera. Qual è il meccanismo base gestito dal protocollo HTTP? Allora il meccanismo base è quello di richiesta e risposta, quindi il client parte da un url, quindi un indirizzo, fa una richiesta secondo il protocollo HTTP, il server web interpreta questa richiesta e nel caso più semplice fa il calcolo e trova il file corrispondente. Il file viene letto e viene mandato con quella che è la risposta HTTP. Il client riceve questa risposta e non fa altro che interpretarla ed eventualmente mostrare il contenuto. Quali sono gli elementi fondamentali in questo meccanismo di funzionamento? Beh sostanzialmente abbiamo menzionato quello che è l'url, che è un indirizzo, abbiamo menzionato l'HTML e ovviamente l'HTTP, ovvero il protocollo che permette lo scambio di informazioni tra il client e il server web. Come funziona l'url, che è il punto di partenza? È quello che voi scrivete o vi fate scrivere all'interno della barra degli indirizzi del vostro browser. L'url normalmente è strutturato in questo modo. C'è un primo elemento che di solito si chiama schema e che è un'indicazione di quale protocollo utilizzare per la comunicazione. HTTP è quello più comune e diffuso ma ad esempio possiamo utilizzare HTTPS o utilizzare anche altri protocolli. Anni fa si utilizzavano anche ad esempio FTP piuttosto che GoFair. In generale è un meccanismo di comunicazione, un protocollo che deve essere noto al nostro browser. Segue poi la seconda parte che è normalmente il nome di quello che è il server. Il nome fa riferimento a un server fisico, quindi una macchina che effettivamente è connessa in rete. E poi c'è la parte successiva che solitamente si chiama query. Come avviene il meccanismo di trasmissione e collegamento? Sostanzialmente a partire da quello che è il nome del server attraverso un servizio che si chiama DNS, Domain Name Service, ovvero un servizio che è in grado di restituire i nomi di dominio. Il nostro browser o il client in generale è in grado di associare a questo nome un indirizzo. Questo è un indirizzo di tipo IP, Internet Protocol, quindi è un indirizzo univoco nella rete di macchine che sono collegate a Internet e una volta che io ho questo indirizzo posso tramite il protocollo TCP mandare una richiesta e quindi contatto il server mandandogli una richiesta. Che cosa contiene questa richiesta? Sostanzialmente contiene questa parte dell'URL che è la query, ovvero quale contenuto voglio andare ad accedere sul server. Il server a questo punto farà un'operazione che si chiama di riscrittura dell'URL, quindi sa che vq slash index corrisponde a un file che sta in una certa posizione sul file system. ad esempio var www.html.index.html. A questo punto cosa fa? Accede al file system, legge il contenuto e lo manda indietro al nostro client browser in generale. Quando pensiamo agli URL molto spesso abbiamo nel caso più generale lo schema, il nome dell'host e la query. A volte possiamo avere alcune informazioni aggiuntive per cui la query può contenere dopo il punto interrogativo una serie di parametri, quindi dove ho il nome uguale a un valore, chiocciola nome uguale a valore. A volte nel collegamento io posso avere il nome dell'utente, nome utente e password, sembrato da una chiocciola e poi il nome dell'host e posso avere ad esempio anche una porta. Normalmente quando io mi collego a un server fisico devo andare a specificare una porta sulla quale è inascosto il server logico, quindi il programma. Quindi ogni programma che viene eseguito su un server fisico, quindi ogni server logico avrà una porta di competenza a cui può essere contattato. In questo modo su un'unica macchina, un unico host è possibile che contemporaneamente funzionino tanti server logici. In più è possibile utilizzare quello che si chiama un frammento, quindi il diesis, che punta a un elemento all'interno della pagina HTML. Ovviamente questo è un elemento che è utile per il client, per il browser. Il browser dice voglio andare a visualizzare quella porzione del mio documento. Da un punto di vista del server sostanzialmente questo è irrilevante perché il contenuto è quello che si chiama index.html. Come funziona lo scambio di informazioni? Beh, sostanzialmente il client, una volta che ha identificato l'indirizzo del server a cui mandare l'informazione, costruisce quella che è una richiesta. Come? Seguendo quelle che sono le regole del protocollo HTTP. Il protocollo HTTP prevede che la richiesta sia fatta in questo modo, sostanzialmente ho un tipo di richiesta, GET, vuol dire dammi che cosa? Questo elemento, la parte di query dell'URL e poi la versione del protocollo che stiamo utilizzando. Ovviamente il protocollo HTTP evolve nel tempo e quindi devo fare riferimento a quella che è la versione specifica che sto utilizzando perché il server, se è in grado di supportare più versioni del protocollo, mi risponda in maniera coerente con quella versione oppure semplicemente mi dica che quella versione non è in grado di gestirla. Poi specifica alcune informazioni aggiuntive, ad esempio il tipo di contenuti che è in grado di gestire e specifica anche quello che è il tipo di client che si sta collegando. Questo ad esempio è quello che viene utilizzato per avere le statistiche sui tipi di browser che si collegano a uno specifico server. Ma è anche utile perché il server potrebbe mandare dei contenuti che siano leggermente diversi in funzione di qual è il tipo di browser che si collega. Immaginate il caso in cui voi vi colleghiate tramite uno smartphone. Il browser dello smartphone comunicherà al server che si tratta per l'appunto di una richiesta che proviene da uno smartphone e il server potrebbe mandare dei contenuti che sono adatti a uno schermo più piccolo come quello di uno smartphone. Una volta ricevuto la richiesta il server elabora e quando ha il contenuto pronto lo manda indietro. Lo manda indietro di nuovo con una risposta che è formattata secondo quello che è il protocollo HTTP. Il protocollo HTTP sostanzialmente prevede di mandare indietro il codice del protocollo, la versione e poi un codice numerico che mi dice come è andata la richiesta. 200 significa che la richiesta è stata soddisfatta, non ci sono stati problemi e poi una descrizione testuale che quindi sia leggibile da un essere umano di quello che è il risultato. Quindi 200 ok vuol dire è andato tutto bene. 404 vuol dire la risorsa non era presente. Oltre allo stato, all'esito della richiesta ci sono altre informazioni ad esempio la data della risposta, il tipo di server che risponde, alcune informazioni sulla codifica, l'ultima data di modifica del documento, il tipo di contenuti e la dimensione delle informazioni. Sostanzialmente quanti caratteri sono contenuti nel documento che stiamo mandando indietro. Poi per convenzione viene lasciata una riga vuota e poi inizia il contenuto della pagina HTML che viene mandata indietro. Tutto questo volendo noi lo possiamo andare a osservare utilizzando quelli che sono gli strumenti di sviluppo per i browser. Quindi io posso andare, quando ho un browser, ad attivare gli strumenti di sviluppo per andare a vedere come avviene lo scambio di informazioni. Come faccio a misurare la bontà della mia connessione? Ci sono alcune misure standard che io posso utilizzare. Una di queste è la latenza, ovvero è una misura puramente teorica che richiede, che rappresenta il tempo richiesto per fornire il contenuto di una pagina che è lunga 0 byte. Quindi se facciamo riferimento alla risposta che vediamo qua, il tempo che è richiesto al server per mandare indietro una risposta che sostanzialmente termina qui, perché il contenuto abbiamo detto che vuoto. Ovviamente tutto questo non è un tempo nullo perché c'è il tempo che la mia richiesta client richiede per raggiungere il server, il tempo per il server di andare a decodificare la richiesta, il tempo per costruire la risposta e il tempo di viaggio della risposta dal server fino al client. Quindi è un tempo che è sostanzialmente ineliminabile. Le unità di misura per la latenza sono il numero di richieste HTTP che posso fare al secondo oppure il numero di secondi per una richiesta HTTP. Quindi uno è una misura oppure l'inverso dell'altra. C'è poi un'altra misura che si chiama invece throughput che è la velocità massima con cui un client è in grado di ricevere i contenuti di un pagina che è potenzialmente infinita. Quindi capite che a questo punto la latenza, per quanto grande, se io immagino la lunghezza infinita della pagina, è un qualcosa che risulta trascurabile. Quindi tolta la latenza, cioè il tempo necessario per fare il collegamento e mandare dietro la risposta, voglio sapere poi il contenuto con che velocità viaggia. E quindi questa è una misura che di solito viene fatta in termini di byte o megabyte al secondo. C'è poi quello che si chiama il delay time, ovvero il tempo necessario per avere il contenuto che ho richiesto, che è dato dalla latenza, quindi il tempo giusto per fare la richiesta e ottenere la risposta, più la dimensione del file HTML che mi è trasmesso diviso quello che è il throughput, cioè la velocità di trasmissione, la banda. Ovviamente questo funziona se non ci sono altri elementi che siano sovraccarichi, quindi non ci siano ritardi ulteriori e il server web possa lavorare tranquillamente. Per cui, ad esempio, se immaginiamo di avere una latenza di 0,1 secondi, quindi 100 millisecondi, di avere un documento che è 100 kilobyte e una banda, un throughput di 800 kilobyte al secondo, il tempo per ottenere la mia pagina è dato da 0,1 più 100 kilobyte diviso 800 kilobyte al secondo, ovvero 0,225 secondi, ovvero 225 millisecondi. Sostanzialmente quando io ho una transazione su web ho diversi tempi. Ho il tempo totale di risposta, che è dato dalla latenza più il tempo di trasmissione dei dati, dai tempi di trasferimento e dal tempo di risposta del server, che comunque non è nullo perché ci servirà da T2 a T3 un po' di tempo per andare a decodificare il contenuto, un po' di tempo di lettura dei dati e un altro po' di tempo, la T6 a T7, per andare a costruire la risposta. Poi da T7 a T8 è il tempo necessario perché tutta la risposta viaggi dal server fino al client e c'è un ulteriore tempo che è il tempo impiegato dal client, dal nostro browser, per andare a visualizzare quella che è la risposta. Quindi riceverà un contenuto HTML, dovrà mostrarlo e quindi questo richiede un po' un certo tempo di elaborazione. Dopodiché c'è un tempo in cui l'utente pensa di cosa fare e quindi ho il prossimo, la prossima richiesta, il tempo perché l'utente ad esempio faccia clic su un link che è contenuto nella pagina. Quindi con questi elementi l'architettura di base del web è praticamente quella che vediamo qua. Abbiamo il nostro utente che interagisce con il browser tramite lo schermo che il meccanismo vi permette di vedere e la tastiera o il mouse o qualunque altro meccanismo di input che permette di dare i comandi. Il browser, che può essere uno di tanti tipi diversi, che cosa fa? prende l'url, manda la richiesta al server opportuno, che di nuovo può essere di tanti tipi diversi, il server che cosa fa? Accede ai file HTML, ai file immagine, eccetera, e confeziona quella che è una risposta. La risposta torna indietro al browser, il quale tramite quello che si chiama layout engine, ovvero un componente all'interno del browser, che dato un file HTML ad esempio è in grado di mostrarne il contenuto, genera la visualizzazione che viene mostrata tramite lo schermo al nostro utente. Abbiamo parlato di diversi tipi di server e quali sono quelli più comuni? Beh, ce ne sono tanti. Diciamo che storicamente quello probabilmente più diffuso è questo qui, rappresentato da questa linea azzura, che è il server Apache, che è uno dei primi che è stato sviluppato ed è effettivamente molto diffuso. Al momento ce n'è un altro molto in voga che si chiama Nginx, altri sono un po' meno utilizzati, ce n'è uno di Google, c'è un server di Microsoft, e poi c'è un server della Sun che è ormai praticamente in disuso. Ma ci sono tanti altri server web che sono racchiusi in questa etichetta ADAR, che come vedete negli ultimi anni si sono moltiplicati, quindi ci sono tanti diversi tipi di server, diversi programmi che svolgono il ruolo di server web, che sono utilizzati all'interno del web. Quindi ognuno, in base alle caratteristiche specifiche, andrà a scegliere il server che gli serve e che meglio si adatta alle proprie esigenze. Un altro aspetto che abbiamo menzionato, che non abbiamo trattato, è la parte di contenuti. Normalmente i contenuti sono basati su quello che è il linguaggio HTML. HTML. Non è il momento di parlare di HTML, ci torneremo più avanti, ma un riferimento in cui andare a guardare per avere qualche informazione in più è questo, www.w3schools.com. Questo tipo di struttura del web è molto molto base. Normalmente non riesco a dare nessuna informazione aggiuntiva, se non dei file già presenti. Immaginate di voler costruire un sistema che sia in grado di andare a darvi delle informazioni che variano nel tempo. Vi da un listino prezzi, l'orario di apertura di un negozio, le temperature del meteo, le previsioni, eccetera. Se io voglio aggiornare le informazioni, in modo che siano viste dai miei utenti, devo andare a scrivere un nuovo file HTML. Ovviamente questa è un'operazione abbastanza costosa, quindi quello che di solito viene fatto è di andare ad appoggiarsi a un altro server che è in grado di prendere le informazioni, di costruire la pagina HTML e di produrre il risultato che verrà poi trasmesso dal server web. Quindi l'application server è un ulteriore programma, applicazione, a cui si appoggia il web server per andare a costruire e a generare i contenuti su richiesta. Quindi io non devo avere l'elenco di tutte, gli orari di apertura di tutti i negozi d'Italia, ma nel momento in cui mi arriva la richiesta per gli orari di apertura dei negozi di Torino, il mio application server va a vedere in qualche database o recupera in qualche altro modo le informazioni, mi costruisce una pagina che contiene esattamente i contenuti richiesti, la passa al web server, il quale la usa per rispondere al client. Ovviamente qui ci sono tantissime tecnologie diverse che possono essere utilizzate. Lo schema di funzionamento è sostanzialmente analogo a quello di prima, dove la richiesta HTTP, che potrebbe contenere dei dati, viene mandata al server web che chiede all'application server di produrre un contenuto e gli passa dei parametri che sono magari quelli che arrivano direttamente dal client. Qui ci sarà una logica applicativa, che quindi è quella che noi dobbiamo andare a sviluppare se vogliamo andare a costruire un server, che genera il contenuto HTML che poi viene passato al server web che lo manderà indietro come risposta al nostro client. Le tecnologie che vengono usate in questo contesto sono ad esempio l'HTTPost, quindi un nuovo tipo di richiesta HTTP che permette di mandare dei dati, delle informazioni al nostro server, quindi informazioni significative, immaginate di dover sottomettere un file o mandare un'immagine o altro. Poi c'è un protocollo che si chiama CGI, Common Gateway Interface, oppure un altro in alternativa che si chiama ISAPI, che è quello che permette al server web di colloquiare con l'application server. Ovviamente queste sono due di tante tecnologie, i servlet sono un'altra possibile tecnologia che permettono questo colloquio. E poi l'application server può essere sviluppato con tante tecnologie diverse, ad esempio ArcGIS in PHP, in Perl, in Java, ci sono tante tecnologie che possono essere utilizzate per andare a sviluppare quello che è un application server. ovviamente quando io ho questo scambio di informazioni mi capita molto spesso di voler andare a mandare delle informazioni all'application server, quindi voglio fare non una richiesta generale, ma voglio fare una richiesta specifica, mandando dei dettagli, dei parametri che potranno essere utilizzati dall'application server per mandarmi indietro una risposta nel dettaglio. Per cui, ad esempio, se esiste un URL a cui posso chiedere, non so, l'elenco delle pubblicazioni di un certo autore, ecco, posso andare tramite una richiesta HTTP, mandare i parametri che normalmente sono codificati in questo modo, quindi in fondo alla query c'è un punto interrogativo e poi ci sono una serie di parametro e suo valore. Questi parametri vengono passati all'application server, il quale costruirà sulla base di questi parametri quella che è la risposta. Quindi, nel caso specifico, la sequenza di comunicazioni, di tempistiche che sono coinvolte in una richiesta HTTP prevedono che ci sia una richiesta da parte dell'utente, il browser la decodifica, manda la richiesta al server web, il server web la decodifica, gira la richiesta con i parametri specifici all'application server, il quale costruisce il contenuto in vari modi e dopodiché lo manda indietro al server web, il quale costruisce la risposta secondo le regole del protocollo HTTP e la spedisce indietro al browser. Il browser a questo punto riceve la risposta, la elabora e visualizza il contenuto mostrandolo al nostro cliente e poi ovviamente a questo punto, dopo un po' di tempo, possiamo riprendere con una nuova interazione. Quindi l'architettura a questo punto è quella che vediamo qua. Abbiamo sostanzialmente sul lato client la stessa cosa, quindi il nostro utente che interagisce tramite dispositivi di input e di output col browser, il quale fa una richiesta, riceve la risposta e la mostra attraverso il layout engine e il nostro server web che fornisce come al solito dei contenuti HTML ma questi contenuti spesso sono prodotti da un application server. Quali sono le tecnologie che vengono utilizzate per andare a costruire degli application server? Ecco, in base a survey abbastanza recenti il linguaggio più utilizzato per andare a costruire degli application server è PHP. Sostanzialmente l'82% dei siti web usa PHP. C'è un 15% che usa ASP.NET che è la tecnologia specifica di Microsoft e poi abbiamo Java per un due e mezzo, Colfusion, Ruby, Perl, JavaScript, Python, Erlang eccetera eccetera, tanti altri linguaggi. Attenzione, queste sono le tecnologie in generale per qualunque sito web. Poi se andiamo a vedere siti web di grandi dimensioni, ecco probabilmente Java è un pochettino più utilizzato. Nuovo all'interno di Java abbiamo tanti diversi varianti e quindi tipi di server che possiamo andare a utilizzare. Come fa l'application server a costruire i contenuti che vengono poi passati al web server? Beh, molto spesso lo fa appoggiandosi a quello che è un database server. Quindi abbiamo tre server, il web server, l'application server e il database server. Questi sono ovviamente server intesi nel senso logico, ovvero sono tre applicazioni, tre programmi che vengono eseguiti ragionevolmente su tre server fisici, host diversi, oppure magari sullo stesso server fisico. Questo è rilevante. Quindi cosa succede? Il database server ha il compito di andare a consentire l'immagazzinamento delle informazioni e rispondere alle richieste dell'application server. Per cui, se vogliamo andare a sapere gli orari delle lezioni del corso di visualizzazione, li chiederemo al portale del Politecnico, il quale girerà l'applicazione dell'application server che è in grado di conoscere queste informazioni e di gestirle, il quale andrà a cercare un database in cui sono elencati tutti gli orari, prese l'informazione del database, andrà a confezionare la pagina di risposta che passerà al server web, il quale, confezionando la risposta secondo il protocollo HTTP, la mandrà indietro al client, il quale alla fine avrà il compito di visualizzarla sul nostro schermo. Ecco, questa è sostanzialmente la struttura web che è disponibile ed era disponibile praticamente già dall'inizio dell'era web, quindi negli anni 90. Tutto questo però non ci permette di andare a fare alcune operazioni molto molto semplici. Vi dicevo che il protocollo HTTP sostanzialmente richiede che ogni volta che ho bisogno di un'informazione debba fare una richiesta nuova. La richiesta nuova in che cosa consiste? Richiesta del tipo GET e risposta da parte del server. A questo punto il problema è il seguente. Come faccio a fare una serie di richieste che siano concatenate tra di loro? Ad esempio vedo un sito di commercio elettronico e scelgo un prodotto e voglio metterlo all'interno del mio carrello. Il punto è che la richiesta e risposta in cui faccio l'aggiunta nel mio carrello è slegata da una richiesta successiva in cui io voglio poter andare a visualizzare il mio carrello. Devo avere la possibilità di mettere assieme più richieste una dopo l'altra ricordando che la nuova richiesta è quella che era stata fatta prima. Avevo fatto un login, poi ho visualizzato una serie di prodotti e poi ho aggiunto un prodotto. Quel prodotto dovrà essere aggiunto al carrello dell'utente che ha fatto il login prima. Quindi almeno tre richieste che sono indicativamente separate devono essere messe assieme in un'unica sessione di lavoro. Questo è un meccanismo importante che è fondamentale per capire come possa funzionare il web soprattutto in maniera più avanzata ed è il concetto di sessione di cui parleremo nella lezione successiva.